Ok, perfetto, allora che abbiamo oggi? Ok, è da fare la pulizia dei denti per noi Buongiorno, buongiorno Allora lei è il paziente di oggi? Prego, prego, si accomodi pure Ok, perfetto Sì, vediamo di sistemarle anche la testa dietro Ok, allora, come sta? Tutto bene? Bene Vediamo un po', oggi abbiamo la pulizia dei denti L'ultima volta che l'ha fatta? Quando è stata l'ultima volta che ha fatto il paziente la pulizia dei denti? Ok, quindi perfetto Un anno fa allora? Sì Vedo che a regolare è meglio così Perché così evitiamo altri problemi ai denti Diciamo che la pulizia è essenziale per i denti Quindi più volte la facciamo, anzi meglio Una volta l'anno deve essere fatta come minimo Per mantenere i denti e per mantenerli sani e puliti e belli Ok, va bene Abbiamo tutto allora Sistemiamo Ok, perfetto La cannuccia c'è Va bene Allora lei si rilassi? No, guardi Ovviamente non fa male niente E non le farò l'anestesia Se proprio senti il dolore Sarà solo un leggero grattare In superficie dei denti Però non fa male Assolutamente Sì Sì Appunto come l'anno scorso La rifacciamo in modo uguale anche adesso Allora Quanti Lei intanto si rilassi E respiri profondamente Se hai un po' di paura Allora Guardi mi faccia guardare Prendo un attimo La 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 Ok Vediamo Benissimo Apre la bocca per cortesia Bene Apre bene Apre bene Apre bene La bocca Ok Così Io adesso le inserisco la cannuccia Sì È quella che serve per la saliva Ok Va bene Possiamo far partire Sì Ok La metto qua Così non ci dà fastidio Perfetto Ok Lei intanto si rilassi Vediamo cosa c'è qua La malparogia Ok Quindi abbiamo detto che è un anno che ha fatto la pulizia Un anno Ok Un anno Vogliamo Di su Di su Ma si sono messi benissimo E direi che intanto togliamo un po' di tartaro Pochissimo che c'è sulla superficie E dopo facciamo un lavaggio profondo E dopo facciamo un lavaggio profondo Sì certo con la pasta spiaggante Quindi avrà i denti bianchissimi Almeno di due numeri Ok Sticca la bocca aperta Apre bene la bocca Perfetto Grazie a tutti Sì c'è dolore Ok Ok Perfetto La bocca Si sente bene Quasi come un solletico Ok Qual è ancora il giudizio Perfetto Sì Sì sono assoluti Ok Ok Adesso sposto un attimo la luce Pompiamo Guardi finiamo Proprio la parte più vicina alle gengive Quelle piccole Quelle piccole Quantità di tartaro Quelle piccole quantità di tartaro Che sono Quelle più vicine proprio alle gengive E poi abbiamo finito Ok Adesso andiamo a togliere Le ultime parti Ok Poi se le gengive Poi se le gengive sanguinano un po' E' un problema Nel senso che Se ha le gengive che sanguinano Finché Lava i denti Guardi mi prendo un attimo la luce Vuol dire che bisogna andare a fare la pulizia in profondità Quindi La pulizia sotto gengive Lei non ha questi problemi Perfetto Ok Apri bene Adesso ne posso Il filo interdentale Per togliere I pezzi in eccesso Abbiamo quasi finito Altri cinque minuti Anche meno E siamo a posto Ok Si sciacquai pure la bocca Tutto bene? Si Ok Allora adesso useremo questo dentifricio Particolare Perché spianca i denti E Previene la carie E aiuta Ok Ok Previene la creazione Di batteri Sotto gengivali appunto Ok Le alzo un attimo Il labbro superiore Così passiamo anche sotto Si va bene anche per le gengive Perché si sono delle volte infiammate Ok La bocca Superiore A Bene Come ultima cosa Andiamo a Pulire Diciamo I denti La superficie E poi abbiamo finito Il labbro superiore In Ok, perfetto, adesso può risciacquare la bocca Com'è andata? Tutto bene? Si sente bene? Sente quanto sono lisci e puliti i denti? Perfetto, allora ci vediamo tra un anno, va bene? Grazie, buona giornata